Qui c'è acqua, qui è pieno di acqua. Qui c'è tutta acqua che ristagna dal parco, questa è tutta acqua che arriva dal trato, dal parco pubblico. E ristagna perché la pendenza è contro la strada. Qui in particolare ce n'è molta che non scarica sulla sede stradale ma si accumula. Grazie. 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 Grazie.